Eccoci ancora qui, nonostante sia il 15 novembre 2022, la farmacia di Vermicino è ancora chiusa. Ora, però mi raccomando, guardate il filmato ma non lo condividete perché altrimenti viene fuori, qualcuno dice, una caciarata, una spettacolarizzazione e non sta bene. Poi va a finire che se diventa veramente una cosa virale e poi non l'aprono più sta farmacia, perciò regolatevi. Ora, vi dirò un'altra cosa, non lo postate sul gruppo se di Vermicino se, perché l'impressione che mi hanno detto, perché io poco ci capisco di queste cose, è che sia gestito da un troll, un troll che abita a Buenos Aires e in effetti è la copertura di un partito politico di maggioranza. E quindi, che ve devo dire, e quando passano queste cose, passano altre, su, siete comprensivi, no? Oh, il ponte, non lo so, sembreria, pareria, medicheno, ma non lo so se è vero, che ci sia un cartello che, un guattato, che dice che la fine lavori sarà ad aprile 2023. 23. Hai capito? Ecco qua. Comunque la sindaca oggi ne è venuta, eh? E ce l'aveva da fare.